Ospitec, Salvatore, Francesca Comincini, Nanni Moretti, Maria Suole, Gognat, sono un sacco di tappeti rossi. Allora, volevo chiederti qual è il tuo rapporto con la mondanità, con l'essere così esposta. Ebbè, è brutto, però la verità è questa, non fa parte... Ma dovresti conoscere questi ormai? Ma adesso, chiaramente, adesso va molto meglio, adesso sono preparata, ci vado anche con una certa scioltezza. Poi so che ci sono personaggi, adesso che sono più... Insomma, in qualche modo la gente è più curiosa di vedere persone nuove, quindi quello mi fa anche stare più tranquilla, perché non mi sento troppo giudicata, ormai quello che devo fare, più o meno l'ho fatto. Però è sempre un'emozione, è sempre bello, cerchi di arrivarci al meglio possibile, quindi lo bere meno cosecchino, non c'è più troppo. Anziché di più. Poi alla fine faccio sempre il contrario, perché mi è nervoso, per cui devo mangiare di più. Però adesso sono ok, mi è abituata. Sto pensando a un fisico molto tonico, ancora elegante, molto gentile. Come cosa fai? No, quello credo sia un po' DNA, perché se mia madre è molto così, è anziana, eccetera, però è carina, si mantiene ancora bene, mio padre è lo stesso. Questo un pochino me l'hanno legato i miei genitori. E poi comunque mi piace lo sport, mi piace... Pratici qualche sport. Io sono disordinata in tutto, quindi anche nel praticare lo sport. Però voglio dire, io ogni giorno qualcosa faccio, per dire. Per dire. Non sto seduta, vado a farmi una corsa, vado a giocare a tennis, vado a... che ne so. Adesso mi sono messa a fare dei balletti. Ma perché devo fare una... mi sto facendo questa transmissione. Sì. E forse, non lo so, forse devo fare una cosa. Per cui va da tre, quattro volte a settimana, va a licchio.